Desidero augurare a tutti i giovani una esperienza davvero ricca di gioia in questa Pasqua che caglia in un momento abbastanza compresso e difficile nella vita del nostro Paese, delle nostre famiglie, delle nostre comunità, ma sapere che il Signore risorto è in mezzo a noi e la possibilità data a ciascuno di noi, a ciascuno di voi di poter ripartire con serenità, con gioia. Ci sono tanti momenti della vita in cui sentiamo la fatica del nostro impegno e travolta non produce immediatamente successi. La presenza del risorto deve essere davvero la certezza che il Signore può e ci dona la forza di ripartire per nuovi traguardi e nuovi progetti. E l'augurio che faccio a tutti voi, cari giovani, di non avere paura del proprio futuro perché il sepolcro è davvero vuoto.